Buongiorno Roberto, buongiorno, e bentrovato, anche a voi, allora lo avevi detto settimana scorsa che sarebbe stata una settimana quella che poi abbiamo vissuto dal pieno regime autunnale, così è stato, ieri è stata una bella giornata, oggi è tornato ad essere così molto variabile, ci siamo nell'autunno, ce l'abbiamo fatta ad entrarci, anche se è ancora tanto caldo, ci siamo caduti dentro, ci siamo caduti dentro, bene, ci fa piacere essere caduti dentro l'autunno, esattamente, ci portiamo dentro un po' di castagne, siamo a posto, Abbiamo una circolazione che rimane ancora vincolata a una depressione che è stabile sul nostro bacino del Mediterraneo, questa circolazione impone una serie di perturbazioni, più o meno fredde, alle quali è associata appunto una serie di depressioni che attraverseranno in sequenza il nostro settore, il nostro comparto euro-atlantico, Quindi anche la nostra bella penisola italiana. Cosa significa? Significa che già dalle prossime ore, dopo aver avuto una pausa, precipitazioni quindi dal maltempo nella giornata di ieri, se avete notato bene la mattinata è trascorsa anche abbastanza tranquilla, Aumenteranno queste, sul nostro settore, diciamo, quello principalmente provinciale riminese, aumenteranno appunto queste coperture, come potete vedere, medio-basse, alla quale è associata anche un po' di precipitazioni. Precipitazioni che saranno a carattere debole e intermittente, di scroci d'acqua in questo caso qui, ma bensì su tutto il settore settentrionale e quindi sui versanti tirrenici avranno a che fare appunto con delle precipitazioni un po' più insistenti, Quindi sicuramente più intense, a carattere anche temporalesco, con quantitativi pluviometrici rilevanti, importanti. Avremo sicuramente un abbassamento della quota neve sul nostro arco alpino attorno ai 1500-1400 metri, fino a distribuirsi anche sul nostro appennino settentrionale, quindi sulle nostre cime, quelle pochettino più alte, attorno ai 1700-1800 metri. Arrivano i primi fiocchi? Diciamo di sì, perché già si nota appunto le prime spolverate sul nostro punto di riferimento, quindi sul Monticimone, e via dicendo anche qualcosa anche sull'apennino centro-meridionale, ma più centrale, diciamo a poca roba, più che altro avranno delle precipitazioni abbondanti a carattere nevoso più sul arco alpino, quello centro-orientale. E di conseguenza, diciamo, questa perturbazione porterà disteso maltempo, quindi con anche delle coperture consistenti, quindi con cieli grigi, plumbe, come nel nostro caso. Avremo sicuramente qualche occasione di schiarita, come stamane, come domani mattina. Precipitazioni, come dicevamo, più centrate nelle ore centrali del giorno, forse oggi nella giornata appunto odierna, e distribuite a carattere intermittente dalla sera alla mattina dei giorni successivi. Roberto, allora proviamo ad andare nel dettaglio. Facci un po' da oggi fino a domenica, perché comunque il fine settimana è sempre quello più atteso dal punto di vista meteorologico meteorologico sulla nostra provincia, che cosa dobbiamo aspettarci nel dettaglio? Ecco, in questo caso qui, come vi ho appena detto, della novosità più consistente sicuramente nei prossimi giorni, le precipitazioni saranno molto effimere, se non qualche rovescio nelle zone interne, nella giornata odierna. Della ventilazione che rimarrà molto sostenuta dai quadranti medizionali, anche perché questo sistema ciclonico porterà venti umidi di libeccio sul terreno e di scirocco sul nostro Adriatico, quindi troveremo anche dei mari da mossi e molto mossi, e sicuramente anche dall'acqua alta sul nostro bacino settentrionale, quindi anche sulle Venezie. Sulla tutto, diciamo che fino a domenica, ecco, il programma, diciamo, tra virgolette, la previsione è questa. Su tutta la nostra regione Emilia-Urmania, invece, avremo delle precipitazioni più consistenti sui rilievi apenninici, e avremo la ricomparsa della neve sui settori emigliani, sulle pianure interne, quelle più occidentali. Quindi anche le temperature scenderanno. Le temperature, bravissimo, che me l'hai ricordato, tenderanno a una diminuzione, visto che questa perturbazione, soprattutto questa che ci verrà incontro, avrà un carattere un pochettino più freddo, quindi scenderanno con le massime, scusate, attorno ai 12-13 gradi, e le minime, forse sicuramente in maniera più sensibile, si attesteranno attorno a 7-8 gradi. Qualcosa di meno, ripeto, nelle pianure più interne, quelle emigliane. Siamo nella media del periodo adesso con le temperature? Ci avviciniamo verso una media del periodo, benché siamo ancora un po' alti, perché dovremmo attestarci attorno ai 12-13 gradi. Sicuramente abbiamo dei quantitativi in pluvium metri molto, ma molto scarsi. Ricordiamo, siamo a, forse, come sicuramente ottobre, uno dei più scarsi in assoluto. Abbiamo delle deficit pluvium metri attorno a un 60%, 50-60%. La diga di Dracoli si sta lentamente recuperando a singhiozzi. Il bacino siamo attorno adesso al 35% dell'invaso, con 11 milioni circa di metri cubi d'acqua. Siamo ancora un po' bassi, diciamo, sui settori romagnoli. Quegli emigliani sicuramente stanno avendo degli apporti maggiori, anche perché queste perturbazioni continuano a entrare, sfruttando un asse meridionale, quello della Francia, verso il nostro bacino, quindi sempre dai settori nord-occidentali verso est. Tra l'altro leggevo ieri che sono stati resi noti i dati relativi al mese di ottobre, che risulta il mese di ottobre più caldo ma registrato. Ma le temperature, leggo il comunicato, sono state più calde di 0,69 gradi Celsius, si parla di Europa in questo caso, rispetto alla media del periodo 81-2010. Quindi dall'81 non c'è mai stato un ottobre così caldo. Diciamo che è una media già abbastanza alta, alla quale va aggiunto, come ci ricorda bene Andrea, un 0,60 gradi che già ci portiamo dietro. Quindi arriviamo a toccare l'1,3-1,4 gradi superiori dopo il 2000. E questi sono dati importanti anche perché, ricordiamo, secondo l'IPCC dovevamo mantenerli costanti almeno sotto un grado e 50 entro il 2050. Quello che tu ci ricordi è un fatto importante, soprattutto sulla nostra provincia di Minese, come terzo ottobre più caldo di sempre. Se ben ricordo, dobbiamo allontanarci e vedere il 2014, quello più caldo. È un 1966, un altro che è, diciamo, lago nel pagliaio per ritornare indietro al 2000. E anche questo, tuttora, è il terzo più caldo di sempre, insomma. Stiamo parlando, insomma, di dati che chiaramente hanno bisogno di tanti, però qui stiamo parlando di tanti anni che sono stati messi a confronto tra di loro. Esatto, perché, come si ricorda, il clima e il tempo sono due cose distinte e hanno serie climatiche. Ed è giusto anche fare questo tipo di valutazione senza solo al percepito, perché poi quello che percepiamo noi è sempre molto, anche molto personale. Però diciamo, sicuramente un ottobre che è stato un po' più caldo ed è anche stato con meno pioggia, per cui sicuramente è una riflessione che può essere fatta. Sicuramente, abbiamo moltissimo da recuperare. Sicuramente adesso con questa lacuna, diciamo, tra virgolette barica, questa depressione centrata proprio sulla nostra penisola, avremo, sfrutteranno queste perturbazioni una dentro l'altra. Quindi riusciremo sicuramente, come tendenza, a portrarsi fino alla seconda decade del mese. Quindi ricordiamoci, questa cosa qui è una tendenza, non sono previsioni, perché le previsioni si fanno entro i tre giorni. Come tendenza avremo un andamento di maltempo, quindi alternato a spassi di sole, quindi di precipitazioni che potranno essere momentaneamente anche abbondanti, hanno andamento sicuramente termico, altalenante, quindi avremo periodi di un pochettino più fresco, almeno fino alla seconda decade di novembre, almeno fino alla fine della seconda decade di novembre. Roberto, una curiosità, visto che appunto parlavi comunque di un fine settimana molto variabile, con rovesci, con un po' di sole, qualche schiarita, tra sabato e domenica, così lo diciamo anche i nostri ascoltatori, si devono organizzare qualcosa, meglio sabato o meglio domenica a livello meteorologico? Sulla nostra provincia sono due giorni molto variabili, sono entrambi simili come giornate, la domenica è sicuramente più nuvolosa rispetto a un sabato, il sabato avrà qualche ora di sole in più, forse nelle prime ore del mattino, ci saranno queste deboli precipitazioni concentrate più verso tra la sera e le prime ore del mattino, quindi sia del giorno precedente che della domenica successiva. Sia sabato che domenica. Bravissimo. Non saranno, ripeto, non saranno simili a quelle che abbiamo appena trascorso, perché appunto questa depressione convoglia delle precipitazioni più insistenti sul lato occidentale. Lo chiedevo, esatto, lo chiedevo soprattutto per gli amici che stanno organizzando a Sant'Arcangelo, la fiera, insomma, attesa per San Martino, all'estate di San Martino, lo ne dico me. Dalla prossima settimana avremo un'altra perdurazione, diciamo già dalla domenica sera, questa sarà con un'evoluzione più sui bacini di Ponente, quindi più spostata, diciamo, verso la Corsica e la Sardegna e richiamerà un'altra ventilazione ancora sostenuta dall'interno del Nord Africa, quindi sarà più umida e quindi avremo un rialzo delle temperature con venti che soffieranno insistenti sicuramente tra martedì e mercoledì l'estate di San Martino, più caldo. Lungo l'Adriatico e qui ci sarà sicuramente un punto di rottura tra i due fronti perché se ne sarà uno sicuramente avremo una situazione della penisola spaccata a metà ma non in senso, come ricordavamo, orizzontale ma in verticale, proprio in meridiano. Sui meridiani. Sui meridiani e questo vento che sfrutterà l'occasione di entrare dentro il nostro bacino porterà acqua alta a Venezia ma potrebbe anche adarsi con dei valori un po' d'allerta, un po' elevati.